Come si fa ad essere felice quando si è soli? Mi dica un po'. Ero felice con mio marito, ma dopo è mancato lui, manca il sole. Come si accade a tutti i nostri amici, L'agico di essere un po' di niente. Ma non si accade a tutti i nostri amici, che accade a tutti i nostri amici, che accade a tutti i nostri amici. Cosa si accade a tutti i nostri amici? La musica mi rende molto felice, perché ho trovato un segretario, che c'è un segretario nella musica. Se avete un problema, una volta che iniziare a ascoltare la musica, sentirai la felicità profondamente nel tuo cuore. Questa è una bella vita. Se non ci manca di cose per essere molto felice. Ci manca. Il lavoro, il lavoro, non c'è il lavoro. Non c'è 50 anni, non c'è il lavoro. La musica mi rende molto felice. 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 Non è una cosa quale è tutta la nostra vita. Perché la nostra vita sombra è stata superata. Perché la nostra vita è vera che la nostra vita è vivente. A prima volta non ero, ma ora mi piaciuto. Ora che mi siamo stati morti del paese, vita è una bella cosa semplice. e non ci sono mai più e non ci sono ancora non ci sono ancora per un tempo quindi io amo la vita e spero che la vita lovesse